La IPSRL con sede in Mazzara del Vallo, affermata azienda del settore Edile, dopo aver realizzato e venduto il primo lotto di villette situate in via Formia, attraversa di via Bessarione a Mazzara del Vallo, ha iniziato i lavori di costruzione del secondo lotto, composto da nove villette a schiera unifamiliari, classificate in classe energetica B. Ogni abitazione, su due elevazioni, si estende per una superficie totale di 140 metri quadrati circa, inclusi portico, terrazzo, balcone, ampie veranda. La villetta è dotata inoltre di un relativo terreno di pertinenza, sia nella parte anteriore che posteriore. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0923 90 9605 oppure alla 348 70 29 205. A presto!